Ottavo posto, quattro punti di ritardo dalla griglia playoff, ma anche una gara da recuperare. Mercoledì prossimo a Matelica, diversi infortuni, Remo e Stefano Amadio, Mazzei, dubbio Marianeschi per la partita di sabato a Sant'Arcangelo, squalificato della Quercia. Momento dunque tutt'altro che propizio per il Pineto, che non vince dal 16 dicembre sul campo della Samorese, in casa addirittura dal 2 dicembre con Castelfidardo. Nel 2019 appena due pareggi in quattro sfide. La vittoria tarda ad arrivare, è un po' quello che è successo all'inizio del giro degli andata, si stanno ripetendo più o meno le stesse cose. Com'è il rendimento? Sì, sicuramente, è normale che non è un momento positivo, come detto tu dal punto di vista infortunato, dal punto di vista dei risultati e anche delle prestazioni. Non ci nascondiamo che ultimamente le prestazioni non sono state positive. Adesso dobbiamo essere bravi a cambiare più che altro mentalmente, perché stiamo andando troppo dietro ai fatti muscolari, ai fatti sfode degli albitri e tutto. Noi dobbiamo pensare a fare la nostra prestazione, dobbiamo pensare che gli infortuni fanno parte del calcio, gli errori albitari fanno parte del calcio. Noi sappiamo che siamo un'ottima squadra, l'abbiamo dimostrato e quindi già da sabato a Sant'Arcangelo dobbiamo subito riprendere a camminare, perché le altre non aspettano. Tanto adesso un tour de force per il Pinedo, se consideriamo anche il recupero di Materica di mercoledì prossimo, sono cinque partite in quindici giorni. Sì, sono due o tre settimane importanti perché dopo queste cinque partite si decide tutto, diciamo, si può dire quello che possiamo fare. A proposito, ho detto qualche settimana fa, capitano non giocatore, però poi sei stato utilizzato a Monte San Giusto, quindi mi sono sbagliato. Ma tu non ti sbagli mai, ma tu oramai hai un'esperienza impressionante. No, no, devo fare pubblicamente ammenda, sei ancora un giocatore, tutti gli effetti. Quindi speriamo che domenica e sabato gioco allora. Ti faccio tornare ogni settimana allora. Va bene. Va bene.